wei wei salve a tutti raga allora ho deciso oggi di registrare un video tutorial su russian fishing 4 dato che il gioco vedo che vi piace sto parlando in questo caso il gruppo che mi segue su twitch e su telegram e a me fa molto piacere che insomma vi sta coinvolgendo questo gioco perché adoro giocare insieme a voi però ovviamente chi non ha mai giocato questo tipo di simulatore non ha neanche esperienza nella vita reale di pesca capisco che si può trovare in difficoltà anche fin dall'inizio fin dal tutorial in più il gioco in inglese quindi questo va a complicare un po chi non conoscendo le basi del gioco non conosce neanche la lingua inglese allora provo a fare un tutorial per quanto riguarda i primi i primi passi in gioco da fare e soprattutto per quanto riguarda anche la le prime canne che il gioco vi fa utilizzare quindi sono a cottage pond che questo raghetto piccolino come vedete solo un cerchio è molto piccolo perché il tutorial partirà da qui quindi per chi per la prima volta lancerà questo gioco avvierà questo gioco si ritroverà qui allora cosa ti chiede il gioco quando devi fare il tutorial il gioco vi chiede di muovervi per muoversi basta utilizzare i classici tasti di movimento della tastiera quindi doppia bu a sd quindi vi muovete un po poi vi dirà di dirigervi verso il ponte che è questo qui quindi camminate fino al ponte e cliccate f f vi accende la torcia con f accendete con f spegnete di nuovo quindi poi il tutorial vi chiederà di equipaggiare la canna fissa si chiama io la chiamo canna fissa o canna di punta è conosciuta con un po di nomi canna telescopica premiamo il tasto i dell'inventario e selezioniamo la canna la canna è questa tele stick tl 16 è la canna telescopica detta anche canna fissa quindi se a me mi sentite dire canna fissa sapete che questa adesso la canna fissa come si e qui si assembla la prima cosa che richiede è il filo fishing line sarebbe il filo ora per capire che filo dobbiamo andare a mettere bisogna andare a cliccare qui il cerchio con dentro la i che ci dà le informazioni riguardo la canna cosa dobbiamo guardare in questa finestrina le cose più importanti da guardare sono il test perché vi indica 5 o 35 grammi quindi vi indica che voi potete attrezzarla con oggetti non più pesanti di 35 grammi più piccoli di 5 sì ma più grandi di 35 no perché questi supporta poi capacità capacità di carico cioè quello che riesce a tirare sulla canna riesce a tirare su fino a 4 kg di pesce a volte se siete bravi poi a gestire vi potrebbe capitare di tirar su un pesce anche più grande di 4 kg senza far rompere nel filo nella canna questo poi dipenderà da voi da come gestirete la situazione con il pesce comunque fino a 4 kg potete tirare su e queste sono le vocine a cui dovete stare attenti l'ultima voce questa qua via perché vi indica quanto è consumata la canna perché ovviamente usandola si danneggia quindi nel tempo si danneggerà e poi ci sono alcune carne comunque che è possibile ripare a riparare adesso non so se questa la carne fissa sono riparabili perché io non ho tantissima esperienza con la pesca a canna fissa anche nel gioco perché preferisco un altro tipo di pesca che si chiama pesca feeder che è una pesca di fondo e a spinning che più avanti però vedremo in qualche altro tutorial quindi quando voi dovete assemblare la canna che sia fissa che sia un altro tipo di canna guardate sempre qui così potete siete in grado di capire quanto i pesi quanto peso può supportare la canna e quanti grammi può ottenere riguardo gli oggetti quindi cosa andiamo a fare fishing line andiamo a scegliere il filo il filo è questo qui e dovreste averlo in dotazione all'inizio del gioco il filo tiene 3 kg e 100 la canna 4 kg quindi può anche andare mettiamo questo riguardo al filo dovete guardare queste tre bocine che già vedete qui la prima riguarda quanto quanti metri ha il filo quindi questo a 120 metri poi mi dice al diametro sono 0,2 abbastanza fino e questo appunto quanti chili può ottenere lo selezioniamo e facciamo ok ecco il filo verrà equipaggiato qui dalla dalla canna poi qua dice regular bolognese float float e il galleggiante quindi andiamo a cliccare e scegliamo il galleggiante il galleggiante abbiamo un io ho un galleggiante da due grammi uno da quattro comunque quello che vi da sempre il gioco di default è questo bobo original quattro grammi e va benissimo poi questa voce oscurata perché questo non serve classic leader si tratta di una lenza di rinforzo non siete obbligati a utilizzarla sinceramente io non l'ho mai usato perché non ne ho avuto mai bisogno poi vedete voi se beccate pesci con i dentini che tagliano se vi succede metterete questa lenza di rinforzo che poi vi farò vedere comunque solitamente io per questo tipo di pesca non li utilizzo quindi vado direttamente all'altra vocina che mi chiede huk chiede l'amo adesso io tanti ami però comunque il gioco credo che vi dia questo qua classico small 14 nell'amo come si fa a capire che misura è perché ogni oltre ai colori ad avere colori differenti a ci sono anche delle misure differenti quindi sempre potete fare il tasto qui il cerchio i e vi dice vi da delle informazioni ma comunque lo vedete già qua si sarebbe la taglia quindi quanto è grande l'amo small 14 piccolo 14 per quanto riguarda la peli la pesca i primi livelli per i primi tre laghi cioè compreso questo di tutorial quello dopo che si chiama moschito e quello dopo moschito che è un fiume si chiama winding rivulet vanno bene gli ami non troppo grandi ragazzi quindi small 14 già va bene utilizzate ami small 12 16 anche dei ami come questo qua rosso 20 18 perché amo piccolo pesce piccolo però a volte può capitare che amo piccolo vi viene invece riuscite a prendere qualcosa di anche sopra il chilo perché i pesci che ci sono nei primi tre laghi o soprattutto moschito non sono particolarmente grandi quindi hanno la bocca comunque piccola anche pesci di 3 4 kg che potete prendere che possono essere delle crocian carp non hanno la bocca così grande da per forza andare a mettere un amo molto grande amo grande pesce grande ma nei giusti laghi nei giusti fiumi dove più avanti ci saranno pesci più grandi da cercare di far abboccare allora è un altro discorso per i primi agli inizi e primi livelli e primi laghi va bene se vi limitate a utilizzare 14 16 12 10 e medio 8 medium 10 potete tranquillamente comprare questi ami qua poi gli ami sono blu quelli per le carpe quelli silver e questi verdi sono universali anche questo direi che è più forse per carpe però ci prendete mi è capitato di prendere anche delle ide e quelli rossi vi consiglio di utilizzarli la notte e la sera funzionano molto bene ora io cosa vado a equipaggiare vado a equipaggiare comunque il 14 qua poi c'è da mettere l'esca allora quando iniziate il gioco come esche avete vermi questi qua e la mollica che è questa qua quindi io utilizzo il verme ok così la canna è assemblata su questo tipo di canna fissa non dovete mettere nient'altro filo, galleggiante, amo, esca canna pronta, fate pick up e vedete che il personaggio prende la canna in mano ora il gioco cosa vi chiederà ha fatto questo vi chiederà di penso di aprire la mappa la mappa si apre col tasto M se ve lo chiede tasto M la mappa cosa dovete vedere dalla mappa intanto la mappa vi indica la posizione dove siamo e dove vogliamo lanciare poi questa pozza scura d'acqua dove dice 3,5 è la profondità cioè questa è una pozza d'acqua da 3,5 metri e mezzo di profondità questa più chiara qui è un metro e mezzo qui due metri questa qui forse intorno dovrebbe essere un metro o mezzo metro dipende insomma non c'è scritto ma più o meno sarà quello perché dobbiamo aprire la mappa e avere queste informazioni perché noi con la canna fissa dobbiamo impostare il filo che c'è dopo il galleggiante quello attaccato con l'amo e l'esca perché? perché dobbiamo dare noi la profondità dobbiamo dire quanto deve scendere l'amo con l'esca quanto deve arrivare dove siamo noi quindi c'è una bella pozza da 3,5 metri il gioco nel tutorial vi chiederà di fare un metro quindi come lo facciamo? il tasto più e meno dalla tastiera mi consentono di accorciare tengo premuto se vedete in basso a destra quel riquadratino blu mi fa vedere che io ho accorciato il filo a 17 cm il gioco vi chiede un metro quindi invece faccio il tasto più e metto un metro imposto il filo un metro ho fatto un po' di più eccolo qua così è un metro quindi voglio che ci sia un metro di profondità per quanto riguarda il filo dopo il galleggiante poi il gioco ho fatto questo vi dirà di lanciare solitamente vi illumina una zona qui davanti vi illumina una zona e voi lì in quel cerchio dovete lanciare per lanciare come si fa? per dare più potenza al lancio dovete tenere premuto il tasto shift della tastiera e il tasto sinistro del mouse ecco adesso non mi è riuscito ecco adesso si vedete che si carica questo cerchio giallo poi rilasciate sia shift che tasto sinistro e l'omino lancia eccolo là accendo la torcia se no non vedete niente quello è il galleggiante e cosa devo fare? se voglio zoomare voglio vederlo meglio da vicino tasto z vi fa zoomare questo gioco vi dà pure l'opportunità di pescare con più canne contemporaneamente ne potete utilizzare tre siccome la pesca a canna fissa è un po' lenta nel senso che ci vuole un po' di pazienza dovete aspettare che il pesce abbocchi e si porti giù il galleggiante per capire quando il pesce è abboccato raga perché non è semplicissimo io stessa non ho grande esperienza non sono bravissima a capirlo a farlo però per quello che ho capito il pesce dà prima delle mangiate dà dei morsi all'esca quindi se vedete che il galleggiante si muove va un po' a scatti diciamo come se fosse scattoso è il pesce che sta dando dei morsi quindi non tirate sulla canna perché non prendete nulla dovete tirare sulla canna quando vedete che il pesce si porta giù a fondo il galleggiante quindi quando non vedete più il galleggiante adesso si vede ma quando non c'è va sott'acqua vuol dire che il pesce sta tirando verso il fondo quindi contate fino a 3 secondi non tirate su non vedete più il galleggiante perché il pesce si è portato giù 1, 2, 3 contate 3 secondi col tasto sinistro del mouse tenendolo premuto tirate sulla canna sperando che il pesce sia attaccato e quindi lo catturate se tirate su e non c'è il pesce rilanciate e riprovate al momento per dire adesso il galleggiante è fermo quindi il pesce non c'è perché ah eccolo e invece il pesce c'è se ne è andato giù proviamo 1, 2, 3 no, niente non è detto che il pesce sia l'amo quindi ritento nell'attesa che il pesce abbocchi cosa faccio? posso anche mettere giù la canna perché appunto vi dicevo il gioco vi dà la possibilità di usare più canne quindi non dovete per forza stare così con la canna in mano se volete nel frattempo utilizzare qualche altra canna questa la poggiate per terra come si poggia la canna per terra? allora vi faccio vedere per poggiare la canna per terra dovete premere il tasto 0 dalla tastiera se io lo premo adesso che sono andata avanti sono al limite del ponte vedete? mi dice è impossibile mettere giù la canna perché ovviamente non c'è spazio quindi se succede questo vuol dire che voi non avete spazio quindi cosa si fa? si va un po' indietro adesso faccio 0 e mi metto giù la canna e potete tenerla così poi quando ci sarà il pesce comunque solita cosa tenete d'occhio il galleggiante se il pesce va a fondo o vedete che la canna tira c'è la punta della canna piegata verso il basso perché comunque quando bocca e il pesce tira la canna si piega e vedete anche la punta della canna che va verso il basso e lì è sicuro che c'è il pesce quindi prendete la canna quando l'avete poggiata per prenderla la guardate e fate il tasto E della tastiera se volete prendere un'altra canna sempre inventario e in questo caso il gioco vi darà anche questa canna di bambù però ve lo ve lo faccio vedere tra poco come ricevedete questa comunque stessa cosa con la canna di bambù cliccate scegliete il filo in questo caso quello che vi da è questo due chili e due le info sono sempre qui questa canna tiene tre chili e otto grammi che può supportare riguardo gli oggetti in questo caso il galleggiante che gli va messo due grammi trenta grammi il galleggiante che vi danno per questa canna è adesso io non ce l'ho quindi metto questo poi ve lo faccio vedere qual è una specie di stecchino uno stuzzicarenti sembra solita cosa quindi filo galleggiante e amo che amo vado a mettere qua andiamo a mettere un 18 ho sbagliato che l'ho presa dobbiamo mettere l'esca anche qui utilizzo il verme e così è completa è già assemblata allora tasto più della tastiera perché devo impostare la profondità mettiamo un metro e anche questo shift più tasto sinistro del mouse e lanciamo questa canna quando lanciate vi lancia più vicino perché è più corta adesso ecco non posso metterla giù tasto zero della tastiera niente mi devo spostare ok adesso me l'ha appoggiata giù vi faccio vedere apro l'inventario questa canna è di 4 metri mentre quell'altra è 4 metri e 8 è un po' più lunga quindi lancia un po' più lontano allora il galleggiante non c'è ce l'ha il pesce sott'acqua comunque ritornando al tutorial perché questi passi sono le cose sono passi che farete durante il tutorial quindi serve a questo questo video tutorial che sto facendo io voi lancerete solo una canna ed è solo questa nella zona illuminata che vi dirà il tutorial per prendere un pesce perché dovete riuscire a prendere un pesce ne basta uno solo vediamo se no niente rilanciamo comunque se voi lanciate nel tutorial di sicuro lo prenderete è anche più in fretta adesso io perché ormai l'ho passato sono livello 14 e vabbè poi sta piovendo e sera come ottenere intanto che aspetto che il pesce si ce la bocchi vi faccio vedere un'altra cosa come ottenere questa canna di bambù è quello che serve per accessoriarla allora andiamo via da qui ci dirigiamo qua a questa casa andate qui qua vi dice Y per avere float tackle e la canna di bambù quindi vi avvicinate qui premete il tasto Y vi dice successo avete ricevuto la canna di bambù e quello che serve per assemblarla col tasto G io lo faccio ma adesso non me lo darà a me non me lo dà perché io ce l'ho già col tasto G raga riceverete questa canna Corona Express Fishing Corona questa canna vi permette di pescare a spinning spinning è un metodo di pesca molto diversa dalla pesca galleggiante cioè con canna fissa perché avete il mulino quindi quando prendete questa canna avrete in dotazione mulino filo e un cucchiaio che non è questo credo sia uno di questi ve ne danno tre uno è sicuro questo poi vi farò vedere come si fa spinning come si utilizza non avrete questo che è il leader questo glielo ho messo io l'ho comprato è la lenza di rinforzo perché appunto ci sono dei pesci chiamati pike in italiano lucci che hanno i dentini e loro tagliano il filo ma se avete questo che è fatto tra l'altro questo in acciaio non lo rompono e non perdete il cucchiaio ma per adesso questo a voi non vi interessa almeno non in questo tutorial vi interessa venire qui per comunque avere la canna di bambù che si usa canna fissa come quella che adesso c'è qui è la canna spinning vi faccio vedere quando prendete quelle cose lì alla casetta vi darà questo amo da usare con la canna di bambù che è uno small 16 il galleggiante è questo per quello vi dico sembra uno stuzzicadenti il filo che vi danno è questo qui che già comunque io ho equipaggiato esca ripeto avete vermi e molica allora vediamo bene se riusciamo a prendere un pesce il tutorial vi chiederà di prendere un solo pesce per andare avanti quindi basta che ne prendete uno dopo non rimanete qui a pescare questo lago è solo per il tutorial quindi non tornateci a pescare perché qua ci sono solo pesci piccoli e non vi servono a molto perché se dovete andare avanti e guadagnare i soldi questo non è il lago giusto qui si fa solo il tutorial adesso vediamo se si riesce a prendere questo pesce se no comunque andiamo avanti non fa niente facciamo finta di averlo non lo so vediamo un po' perché vi dico anche per me non è semplice oh l'abbiamo preso ok si è portato giù il galleggiante e io l'ho preso probabilmente il pesce che prenderete sarà simile a questo cinese sleeper quando avete preso il pesce non cliccate qui backspace questo qui perché lo rilasciate se cliccate questo quadratino lo ributtate in acqua e non dovete farlo perché il pesce vi serve quindi keep dovete fare keep space potete utilizzare il mouse per selezionare questa voce oppure la spacebar della tastiera quindi mettiamolo in saccoccia perché ci serve fatto questo che avete pescato il pesce se vedete a destra dove c'è la bussola il cerchio il cerchio grande con la freccia che mira in alto e c'è scritto 14.14 questa è una bussola raga e 14.14 sono le coordinate di dove mi trovo io adesso il cerchio più piccolo sopra col pesce disegnato è la vostra nassa sarebbe l'inventario dove vanno a finire i vostri pesci che si chiama nassa mi dice 1 su 100 il massimo che ne potete tenere è 100 tanto comunque poi li dovete vendere se uscite dal gioco senza vendere i pesci che avete pescato vendeteli comunque prima che passino 24 ore reali perché nel gioco il pesce va comunque a male quindi se voi pescate del pesce non lo vendete e poi tornate in gioco dopo per dire due giorni e avete 30 40 pesci lì nella nassa sono tutti andati a male ci guadagnate molto poco quindi cercate di vendere quando uscite dal gioco e quindi io ne ho 1 su 100 che è quello che abbiamo preso fatto questo nel tutorial ragazzi dovete riporre la canna nell'inventario come faccio a rimettere la canna nel mio zainetto dovete premere il tasto backspace della tastiera e va nello zainetto quindi probabilmente il tutorial ve lo chiederà di fare backspace per riporre la canna nello zainetto fatto questo che avete il pesce forse vi dice anche di premere F1 F1 vi da la lista dei comandi per muoversi insomma tutto quello è sempre in inglese però è quello che vi sto un po' spiegando io la rotellina del mouse a cosa serve questo qui ve lo farà fare fatto F1 cosa dovete fare dovete cambiare lago adesso presso il pesce fate F1 se il tutorial ve lo chiede e si cambia lago come si fa esc e si va qui dove c'è scritto decotash pond questo è il luogo dove vi trovate ma qui cliccando trovate tutte le mappe disponibili dove si può andare a pescare non ci clicco ancora perché volevo farvi vedere qua sotto questo vi indica l'ora e il tempo questa è una specie di meteo se cliccate vedete i prossimi giorni come sarà il tempo della settimana come andrà se c'è sereno i gradi il vento questo incide ragazzi i pesci perché ci sono pesci che preferiscono il sole e una temperatura alta e magari che non ci sia il vento ci sono pesci che invece preferiscono il tempo nuvoloso con un po' più di vento oppure meno ci sono pesci che preferiscono la pioggia quindi si trovano più facilmente se piove ci sono temperature basse la tipologia insomma del tempo le temperature incidono sulla pesca perché appunto ogni specie di pesce ha le sue preferenze quindi a volte trovate meno di un pesce perché non è al momento insomma c'è una brutta giornata mentre magari scoprite che in quella brutta giornata prendete un'altra specie di pesce facciamo il tasto X di nuovo X e andiamo a moschito quindi clicchiamo qui e selezioniamo moschito moschito vi dice qua ogni lago c'è una descrizione questo qua vi dice float tackle quindi canna fissa si pesca 5 stelle si pesca bene bottom tackle e la pesca feeder pesca di fondo che vedremo più avanti si pesca bene spinning un po' meno una stella e mezzo vuol dire che non è molto adatto per fare spinning però ci sono 2-3 zone dove si fa comunque bene si prende della roba anche a spinning quindi non è proprio da scartare per fare esperienza va bene se qualcuno di voi scopre che preferisce di più pescare a spinning che gli piace c'è questo qua il fiume windigree bullet spinning 5 stelle feeder 2 stelle e mezzo si può comunque pescare con la canna a fondo e la stessa cosa vale per la pesca con la canna fissa comunque noi dopo il tutorial ragazzi che avete preso quel pesce lì andate a moschito quindi travel clicchiamo lì e aspettiamo il caricamento se arrivate a questo punto il tutorial lo state per terminare aspettiamo un pochettino a moschito ci potete restare per continuare poi la vostra partita a pescare soprattutto per quanto riguarda la pesca con carne fissa una volta giunti a moschito il tutorial vi dirà di vendere il pesce quindi questa è la bancarella per vendere il pesce si capisce perché tanto c'ha i pesci lì cosa dobbiamo fare ci avviciniamo tasto E dice Fish Market quindi si capisce che è dove si vende facciamo il tasto E selezioniamo il pesce in questo caso ci dà 59 centesimi 0,59 centesimi per questo pesce dobbiamo una volta selezionato cliccare qua Sell che è Vendi e ci paga abbiamo aggiunto 59 centesimi al nostro bottino qua al nostro conto in monete d'argento a me vedete tutte queste monete ragazzi perché io ovviamente in questi giorni sto pescando tanto sono un po' più avanti quindi prendo dei pesci che ma succederà pure a voi anche se fate pesca a canna fissa prenderete pesci pagati bene fatto questo finito il tutorial l'ultima cosa che il gioco vi dirà che se volete potete provare appunto pescare anche a spinning trasferendovi a Rivulet io non ve lo consiglio di andarci subito proprio primi due tre livelli io vi direi di continuare a pescare qui con un po' di pazienza con le canne fisse quindi sia questa che questa nei vari posti che ci sono qua in giro già un buon posto è questo se dovete pescare qui potete pescare tranquillamente con la canna fissa un'altra cosa che stavo dimenticando comunque fatto questo ho venduto il pesce a posto avete finito il tutorial siete liberi di fare quello che vi pare quindi adesso vi spiego due cose qui di moschito poi chiudo se no si fa troppo lungo questo video tasto U della tastiera vi apre la finestra dove avete gli slot questi slot sono per appunto sono il tasto 1 della tastiera 2 3 4 5 dove potete trascinare le vostre canne i vostri oggetti in modo da avere dei tasti rapidi per equipaggiare subito una canna quindi cosa facciamo la telestick TL16 la mettiamo nell'1 slot 1 la canna da babù slot 2 poi una cosa che vi consiglio di comprare la pala già quando arrivate a livello 3-4 se avete fatto delle monetine avete guadagnato un po' di monetine compratevi la pala la pala io la vado a mettere al 5 perché questi poi vabbè li utilizzo per altre mie canne non fate caso a questa roba questa è la lanterna che quando di notte c'è il buio io questa la metto per terra mi riumida la zona lì dove sono però comunque ve lo farò vedere in un altro momento per adesso vi interessa questo poi un altro tasto rapido raga è il tasto T il tasto T vi apre la finestra dove vi fa vedere la roba da mangiare e da bere che avete nell'inventario come potete vedere a sinistra dello schermo in basso ci sono quattro barre la prima quella lì con il lampo è la barra della stamina perché l'omino si stanca si stanca quando usa la pala che spalla si stanca quando pesca o se deve fare la lotta con il pesce poi c'è la barra del cibo dovete mangiare ogni tanto farlo mangiare perché se mangia si ricarica la stamina poi c'è la barra della salute quella non preoccupatevi tanto sta sempre bene non muore l'ultima con il sole è la barra del comfort la barra del comfort incide anche con la barra della stamina della prima quindi cercate di tenere quella barra del comfort anche a metà o anche piena come si fa? allora se in questo caso siete vi trovate una situazione simile alla mia la barra del cibo è a metà la barra della stamina è a metà si sta caricando un po' adesso quella del comfort è così dovete andare a mangiare dove si mangia il mosquito allora il mosquito si mangia gratis qua una volta al giorno quindi fate il tasto E e lui mangia una volta al giorno cosa significa? che allo scadere della mezzanotte io potrò rimangiare se dovete mangiare di nuovo prima insomma che scadere la mezzanotte avete spalato avete pescato bene l'omino ha bisogno di mangiare venite qui questo è una specie di supermercato aperto 24 ore su 24 nel gioco qua trovate tutto la prima vocina vi da la finestra dove c'è tutto poi ci sono le categorie food la seconda vocina è per il mangiare la terza drink per una limonata ma non compratela non serve a nulla niente di che benefici non ne ha l'alcol invece ha benefici solitamente io compro le birre per adesso vi consiglio per non spendere troppo lattine di birre o al massimo c'è il vino questo qui ovviamente che differenza c'è tra birra e vino che la birra vi fa caricare la stamina più velocemente almeno 4-5 volte se la fate scaricare 4-5 volte la birra per 4-5 volte ve la fa scaricare più velocemente il vino è ancora più efficace della birra perché penso che ve la faccia ricaricare più volte e comunque più velocemente la mantiene forse più alta comunque all'inizio prendete le birre se dovete mangiare dovete prendere roba da mangiare è molto buono questo la barretta di cioccolato perché vi fa aumentare la stamina anche il cioccolato e il cibo poi altra cosa che vi consiglio di comprare andiamo su food vediamo a questi qua che adesso li hanno finiti qua a Mosquito però non fa niente la roba che finisce dopo qualche giorno viene rifornita e comunque c'è il negozio anche al fiume a Winding Rivulet tutti i laghi da qui in poi hanno questi negozi quindi quello che non trovate magari qua fate un viaggetto al fiume a Winding Rivulet se qua è finito magari a Rivulet ce l'hanno basta fare solo il viaggetto comunque nel caso comprate questo per mangiare che non costa tanto ma vi fa riempire tutta la barra quasi oppure anche questo che è il tonno il pane raga come si compra intanto un oggetto ci selezionate su cliccate qua questo vi da quattro panini per dire questo qua ve ne da uno la quantità è scritta qui una porzione 68 centesimi centesimi per dire prendiamo il pane da quattro panini così e l'abbiamo comprato per farlo mangiare tasto T potete mangiare anche il pane se volete per far crescere un po' la barra del cibo però cresce poco io in questo caso mi mangio questo basta così cliccare e lo mino mangia non avevo bisogno però ve lo faccio vedere tanto per farvi vedere come si fa perché avendo mangiato lì dal carretto si è riempita la barra del cibo come vedete si sta ricaricando la stamina ma il comfort ancora è un po' giù cosa dobbiamo fare? prendiamo la birra che magari abbiamo comprato e gliela facciamo bere tasto T la selezioniamo e lui la beve in questo modo tra un po' si caricherà dal tutto la barra della stamina e andrà avanti un po' anche il comfort poi vi spiego qui raga comprate la mappa ecco qua la mappa di moschito io ce l'ho già selezionate comprate costa tre monete tasto M e avete la mappa di moschito la mappa di moschito vi indica qua ci sono due pozze con profondità 5 metri qui è un metro e mezzo è tutta un metro e mezzo fin qua questa qua più chiara è tre metri e mezzo e qui è mezzo metro così se dovete pescare con la canna fissa qui è un metro sapete più o meno a quanto impostare il filo poi io vi ho detto appena potete dal livello 3 in poi di comprare la pala la pala si compra qua questo edificio vi ricordo che gli oggetti che comprate se per sbaglio comprate qualcosa cioè sbagliate a comprare un oggetto e non lo state utilizzando non utilizzatelo perché se vedete return to the item vuol dire ritorna l'oggetto tasto Y e ritorniamo l'oggetto che abbiamo comprato per sbaglio vi apre l'inventario e se c'è un oggetto che ho comprato per sbaglio glielo posso ritornare adesso io non ne ho ovviamente sono tutti bloccati qui col col catenaccio perché io non ho oggetti comprati per sbaglio e non usati deve essere anche non utilizzato invece per comprare la pala fate il tasto E e questo è un negozio di attrezzatura attrezzatura che riguarda il crafting qui ci sono oggetti per cucinare che sono questi però ve li farò vedere più avanti in un altro tutorial questo è per fare il caffè il termos di caffè scusate la voce è un po' sono un po' d'allergia poi altra attrezzatura serve per craftare leader quindi la lenza di rinforzo ma è meglio comprarla perché ai primi livelli se le craftate comunque la qualità poi non è buona i coltellini poi ve li spiegherò più avanti a cosa servono a voi vi interessa questa la pala sono 38 monete sono un po' però compratela perché ne vale la pena allora una volta che avete la pala dovete aver raggiunto il livello 3 per utilizzarla quindi una volta comprata la pala tasto U ve la troverete qua la selezionate come ho fatto io ve la mettete in uno slot io adesso premo il tasto 5 della tastiera che è dove ho la pala se notate mi si sono caricate tutte le barre quella importante da guardare per riuscire a spalare è la prima quella della stamina perché se non avete la barra della stamina piena come adesso anche se ne manca un pezzettino come quello non fa niente l'importante è che sia almeno piena così se è più sotto non vi fa spalare se è piena a metà non spalate perché non ha abbastanza energia se è così che anche se non è piena del tutto guardate che mi fa spalare ecco io ho spalato ho trovato 16 vermi di questi adesso è completamente scesa però siccome io ho bevuto la birra tra un po' si ricaricherà tanto la barra del cibo è piena il comfort è su adesso pian pianino si tornerà su spalare vi serve perché raga spalare è un'abilità in questo gioco ogni volta che spalerete ora da me non si è visto perché io sono un po' avanti però da voi lo vedrete ai primi livelli otterrete lo 0,02 di percentuale di avanzamento riguardo l'abilità di spalare di cercare vermi questa abilità cioè mandatela avanti perché fate il tasto N della tastiera e vedrete tutte le esche che sono disponibili in questo gioco esche raga che potete craftare voi e le sbloccate spalando ogni volta che raggiungerete una certa percentuale in quell'abilità nel cercare i vermi con la pala voi andrete a sbloccare le esche io ho sbloccato fino a qui i cubetti di formaggio questi vedete li devo ancora fare perché devo andare avanti in quell'abilità e queste sono cose che potete appunto craftare invece di comprarle conviene perché andate a risparmiare voi vi comprate gli ingredienti per dire questa la prima vi dice il pane la mollica di pane selezionate e vi chiede il pane quindi se avete comprato il pane al market e volete fare come esca la mollica cliccate qui selezionate il panino e poi fate make che lui lo prepara ecco qua e abbiamo 33 palline di mollica ok e ce li conterà nell'inventario se vogliamo fare le patate ci vuole la patata la patata ragazzi trova a Rivulet oppure la comprate a Rivulet la trovate proprio la patata intera quindi è da da mettere intera poi lui la farà a pezzettini il processo quello che la fa a pezzettini avrete questo se no comunque al negozio le vendono già poi in un altro tutorial magari vi faccio vedere dove la vendono questi per barley è un'esca che piace molto ad alcuni tipi di pesci in particolare che sono buoni da prendere perché vi fanno guadagnare come la faccio perché mi dice per barley quindi cosa devo andare a cercare andiamo qua al market e andiamo a selezionare food dove c'è tutto e piano piano scendiamo un po' e cerchiamo questo sacchettino che ha lo stesso nome dell'esca per barley quindi lo compro chiudo tasto N ancora torno qui per barley eccolo qua me lo riconosce già che ce l'ho nell'inventario quindi make e adesso prepara ecco la preparazione delle esche raga vi fa avanzare nell'abilità appunto che riguarda le esche quindi la ricerca e la preparazione questa coincide con l'abilità della pala è la stessa quindi che voi preparate un po' di esche che voi spalate andrete avanti su questa abilità che appunto vi sblocca man mano le altre esche ok a posto e abbiamo anche fatto i per barley nel frattempo la stamina è aumentata di nuovo la stamina del personaggio quindi tasto 5 pala e vediamo una spalata vediamo ecco qua abbiamo trovato 9 vermi 36,8 poco fa era adesso è avanzato di 1 vabbè solitamente avanza di 2 poco fa ero a 36,7 perché ho fatto i per barley e adesso 36,8 perché ho trovato questo oltre a questo verme troverete anche quest'altro che è molto buono quindi non troverete solo questo ma anche questo adesso andiamo a pescare un po' quindi come si pesca qui a mosquito all'inizio avrete solo le canne fisse più la spinning quella è un altro tipo di pesca io adesso vi dico solo sempre per le canne fisse tasto 1 e prendo la canna fissa tasto M voglio vedere dove sono quant'è l'acqua un metro e mezzo di profondità ok chiudiamo la mappa potete decidere di lasciare a un metro io vi consiglio in questo caso di lasciare un metro raga comunque e dove dovete lanciare con le canne fisse non lanciate qui diciamo a mare aperto non vi conviene cercate sempre di lanciare dove ci sono alghe o erbetta come qui questa erba nell'acqua lanciamo qua vicino per vedere il galleggiante spostiamo un po' così lo portiamo qui vado un po' indietro tasto 0 metto giù la canna prendiamo la bambù eccola qua anche questa controlliamo che sia un metro lo era già ok lanciamo anche questa qui lanciate sempre da questa parte se pescate qui mettiamo giù e aspettiamo ho messo il verme su tutte e due se volete potete anche cambiare mettere la mollica gestitevi voi le esche se volete sapere che tipo di pesci ci sono qua la specie di pesci da catturare a moschito fate il tasto ESC e andate qui dove dice record e writing questo quadratino qui qua ci sono tutti i pesci che popolano il lago di moschito quindi quello che pescherete è tutti questi qua avete la probabilità di trovare questi pesci qui allora qui tra le regioni al region vuol dire tutte le regioni vi fa vedere il record di tutte le regioni purtroppo non c'è l'Italia quindi cosa dovete fare a cosa serve questa pagina serve che per dire io dico devo prendere le Crucian Carp qua clicco per dire qua mi sta dicendo che le Crucian Carp più grandi da 3,5 kg vengono presi con un'esca che si chiama Semolina con questo tipo di verme Nightcrawler con queste esche e ancora la Semolina questo per quanto riguarda tutte le regioni ora voi all'inizio queste cose non le potrete utilizzare e la Semolina la dovete sbloccare come esca però le Crucian Carp mangiano vermi mangiano mollica mangiano per barley quindi state tranquilli che la prendete lo stesso anche se non avete per forza questo questo vi fa vedere che avete più probabilità di pescare magari quella più grande se avete queste esche però fa lo stesso capita comunque allora io mi devo quindi regolare guardando questa pagina di tutte le regioni e poi vado qui Hotel Region che sarebbe altre regioni controllate anche questa perché vi faccio vedere Crucian Carp vedete qua mi dice che un tizio con la mollica è riuscito a prendere 3,4 kg di Crucian Carp quindi gestitevi queste due pagine per avere le info è molto importante anche questa allora vediamo se qua i pesci hanno abboccato intanto comunque era per farvi capire come si pesca a canna fissa come si assembla e come si deve utilizzare adesso non ho preso nulla non fa niente ripongo nello zaino backspace qui il pesce c'è tiriamo su è un altro cinese vabbè pazienza mettiamolo nella nassa quindi sempre qui questo qui ripongo l'asta allora raga questo è un buon posto per pescare con la canna fissa se lanciate lì ci sono anche altri posti quindi se capita che qui non prendete niente cambiate posto girate andate avanti in giro per moschito fermatevi da qualche altra parte e abbiate pazienza perché a volte cambiando zona li trovate quindi se qua qualcuno di voi non prende niente spostatevi fatevi un giro per moschito provate varie zone dove pescare un'altra cosa se volete cambiare esca rapidamente c'è un tasto rapido tasto B vi fa vedere tutte le esche che avete che potete utilizzare per dire io qua adesso ho il verme e vi dico voglio mettere la mollica tasto del mouse e ho la mollica come esca voglio ricambiare B rimetto il verme così è molto semplice altra cosa da sapere qua moschito quindi vi ho detto qua comprate la mappa questo è il market questa è la bancarella del pesce dove vendete i pesci questo raga per adesso lasciatelo perdere qua è la stazione dove si può affittare quel gommone che vedete lì perché è possibile affittare questo qua e andare in giro con questo per pescare però ci vogliono delle canne particolari perché dovete avere la giusta canna e non è quella non è la canna fissa ma sono canne da spinning che per ora non abbiamo si farà più avanti che vengono messe una a destra e una a sinistra di inque i tubicini poi si va in giro con il gommone con ovviamente l'esca di quelle canne in acqua camminando piano piano col gommone il pesce poi a bocca però è un qualcosa che ci si penserà a fare più avanti nel gioco